Luisella buonasera e benvenuta nel track di casa Sanremo tour. Chi è Luisella? Luisella è una ragazza che dà tutto per la musica, è una mia grandissima passione e ho deciso di studiare proprio per cercare di coltivare questa passione e di dare il meglio anche dal lato tecnico. Diciamo che cantare è una sorta di sfogo per me e riesce a far uscire tutte le mie più grandi emozioni, dalle più negative alle più belle. Questa sera ha deciso di portare un brano di Fiorella Mannoia che sia benedetta. Questo brano sin dal primo ascolto è riuscito a darmi tantissimo perché è riuscito a farmi vedere la vita in modo completamente diverso, non cadere davanti agli ostacoli, riuscire ad andare a pari passo con la propria vita secondo me è importantissimo e per questo ho deciso di cantarlo. Grazie Luisella. Grazie a te.